No! Aiuto! Babbo e mamma mi hanno portato qui con questo pacco Mamma mi ha detto di mettermi il costume con sopra questa roba Ma poi perché è a casa di nanna Nella? Vedremo 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 basta ciao a tutti ragazze benvenuti sul mio canale oggi sono i costume sono a casa di Nanna Nella ho un pacco e lì c'è la piscina apriamo anche chi ce l'ha mandato questo pacco gigante l'ha già riflessione e cosa ci sarà dentro? non lo sa davvero? non lo so cos'è? cos'è quello? cosa sono quelle? sono i bunch balloon lo sapevo infatti vediamo di un po' dai oggi è arrivato il momento di fare la venpetta con la prifinale venpetta ma come? e quello a cosa serve? il cannone spara con questo ci si riempiono nell'acqua e poi si può anche sprucciare età? sei anni mannaggia mi è andata male ma quanti cosa sono arrivati? fanno vedere tutto allora 100 100 e 100 e qui quanti ce ne sono? 100 100 e 100 nooo siiii io prevedo che ti bagnerai che ti bagnerai dai allora iniziamo ad aprire oh bambino anche te ti bagnerai aiaia oggi si tocca allora questi sono è meglio che metti la protezione alla telecamera 100 bombe d'acqua pronti siiii abbiamo capito abbiamo capito allora questi qui si possono gonfiare o con questa canna oppure con la canna quella verde e noi proviamo quello? lo proviamo dai proviamo quello che è nuovo liberalo dai dai apri apri qua e come si fa? questi si aprono così e dietro ci sono tutte le istruzioni vedi? come dobbiamo fare? dobbiamo togliere il cappuccio Sofì connetterli con i palloncini immergerlo aprire la valvola dell'acqua e poi riempirli apri questo avvita questi lì davanti al posto di quello bravissima questo è proprio facile eh per giocare io ne ci danno vissa ok ora sono grande ci siamo? allora vediamo se si staccano su tirali su no no facciamo una challenge questa challenge consiste nel scalzare i palloncini pieni d'acqua mettiti la sei pronta? si basta no aspetta lì 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 è ah ah es è 3 3 ah 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 la no basta ora mi vendico e ben petta provieni bravissima tutti eh e ora gioco numero 2 stai davvero so bene arrivederci ma perché? preso oggi non è la mia soldata questo non vuol dire tennis bravissima Sofì no ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto mettete tantissimi like ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto mettete i like iscrivetevi saprateli assolutamente perché sono divertentissimi grazie giochi preziosi grazie 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 davvero grazie scusate perché non vi guardo ma sono divertentissimi davvero siete pronti? meno due meno uno ciao 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 ciao